Cittadini buongiorno, oggi è 13, siamo qui in via Palermo con il responsabile della SGS e la società mista che raccoglie i rifiuti di San Giovanni Tiatino. Abbiamo avuto una segnalazione attraverso l'app che è stata istituita, hanno abbandonato un frigorifero, un cittadino ce l'ha segnalato, la macchina viene subito. Ovviamente adesso cerchiamo di risalire anche ai numeri di matricola per avviare anche un procedimento a carico del proprietario del frigorifero che sicuramente l'avrà dato in mani sbagliate e quindi è finito su questa strada. Tra poco arriveranno gli operatori, lo caricheranno, mi raccomando scaricate questa app, qui sopra al posto troverete tutti gli elementi per poter contribuire a mantenere San Giovanni Tiatino più pulita. Ovviamente questa è la prima fase, abbiamo già le telecamere e le posizioneremo in tutte le parti del territorio dove ci sono degli scarichi incontrollati e cercheremo di risalire sempre e comunque i delinquenti che si macchino di questo reato.